Ciao ragazzi per il mio canale, lui è uno scello sta facendo quello che è carino, peste che mi ho fatto riservato guarda, quella è una persona Marco, lui fa il video che giochiamo e tua mamma lo fa no, la faccio io sì sì prima uno, due, tre che cazzo dici? e quanto è uno, due, tre danza è uno, due, tre parto è uno, due, tre campo è uno, due, tre lui è una persona che dopo questa cosa andrà su youtube tu andrai su youtube no sì dopo pubblico il video dopo pubblico il video lui è una persona questo fa un sacco di like 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 fa un sacco di like un sacco di like un sacco di like, grazie che devo aver scelto la rissa tanto non l'ho registrato tocco la rete e fammi vedere ciao sono Damo Gengo io pure lo faccio non ti appende non ti appende e lui ha un cappello molto brutto Marco non l'abbiamo fatta non lo so ancora non l'abbiamo fatta sì non l'abbiamo fatta sicuramente non facciamo le tre a me non l'abbiamo fatta non l'abbiamo fatta non l'abbiamo fatta prendere il foglio e la penna e il cappello di tipo vai venga la fischia parco ma non lo pubblichi vero? certo sì ora andiamo nel parco giochino sono lui del video di video da di 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 no io no no sto facendo i video su youtube voglio vedere c'è 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 ciao lui è Damiano ma veramente fai video? certo e poi cosa fai? qualcosa ecco perché ecco perché ecco perché ed è molto arrabbiata perché ma perché fai vedere le persone a casa? perchè la c'è una persona che c'è ma scusa non puoi fare ma non c'è no mi c'è la foto che la devi sentire è scherzo no c'è la vedi allora perchè non lo faccio no frate e poi forse mmm e poi lei è questo è e poi c'è no c'è veloce con il telefono in mano vai non importa se sogniamo Gabriele ma perchè sono pubblico ma chi è la polazione della pepsi che cosa tu sei scema ma perchè non voglio essere su youtube cazzo io si ciao ma attento vabbè a voi non vi prendo a voi mi hai preso bella roma come state che